Una piattaforma ambiziosa per avviare una trattativa che mette al centro del confronto richieste importanti non soltanto di natura economica ma anche in termini di relazioni industriali e che interessa a livello nazionale 1.400.000 tutte blu e in Friuli Venezia Giulia oltre 70.000 lavoratori. È stato questo l'argomento al centro dell'incontro avvenuto stamane in città e che anticipa quello che si pronuncia essere un difficile e complicato negoziato che si terrà a Roma. Sul salario la richiesta dell'8% di incremento sui minimi pari a circa 150 euro. Per quanto riguarda le richieste salariali che aggiungiamo riguarda un tema sulla contrattazione aziendale chiediamo il mancato per chi non ha la contrattazione aziendale la distribuzione di una quota salariale perché nel nostro paese purtroppo sono solo il 37% delle aziende metalmeccaniche che fanno i contratti aziendali. Le parti normative cercano di affrontare temi importanti per noi come ad esempio tutto il tema della formazione quindi professionale. Noi chiediamo che la formazione professionale sia un diritto esercitato nell'impresa. Chiediamo inoltre un rafforzamento di alcuni istituti contrattuali come la previdenza complementare, la sanità integrativa. Un'attesa che cresce con il passare dei giorni e con la scadenza del contratto attuale fissata per il 31 dicembre con un quadro economico complessivo che preoccupa anche a livello regionale. Ci sono eccellenze come fincantieri che stanno trainando l'economia anche a livello regionale. Ci sono però anche delle situazioni di crisi conclamate ormai molto pesanti come quella della farriera di Selvaro di Trieste, della Sartubi di Trieste, della Savio di Pordenone e quindi una situazione abbastanza preoccupante da questo punto di vista.